Per te che sei sempre attenta a ciò che porti in tavola, Todis, la spesa di qualità a prezzi convenienti. Con i suoi reparti freschi, Todis è garanzia di bontà e genuinità. Macelleria, salumeria, gastronomia, ortofrutta e un vasto assortimento di prodotti bio senza glutine, senza lattosio, vegani e vegetariani. Fino al 17 febbraio, pomodori pelati 800 grammi 55 centesimi, olio extravergine di oliva grezzo 1 litro 3,99 euro, grana padano dop grattugiato 95 centesimi letto, formaggio duro granarolo stagionatura 14 mesi 75 centesimi letto, minestrone 15 verdure 1 chilo 1 euro e 19 centesimi. A Salerno, in via Roberto Volpe, zona San Teustachio, a Nocera Inferiore, via Nicola Bruni Grimaldi 37, nei pressi della stazione ferroviaria. A Salerno, in via Roberto Volpe.